Sapete come dovrebbe essere un sistema pensionistico? Un sistema pensionistico dovrebbe essere che i soldi che mio papà ha versato per non so quanti anni, lui dice 45, secondo me 10, però scherzo, per 35 anni, quei soldi o gli interessi su quei soldi dovrebbero pagargli la pensione. E questo è come un sistema pensionistico funziona in tutte le parti del mondo, in Svizzera, negli Stati Uniti e via dicendo. Gli Stati Uniti non hanno un sistema pensionistico come il nostro, quindi solo se hai dei soldi da parte prendi la pensione, se no ti danno niente. Invece cosa succede? La pensione di mio padre viene pagata con i soldi che pagano i miei ragazzi o pago io di IMSS. E questo non è un sistema corretto. Tecnicamente si chiama schema Ponzi. Cioè quando tu prendi soldi di qualcuno per pagare qualcun altro, e via dicendo. Non so se lo sapete, adesso siamo più o meno uno a tre. Cioè ci sono tre persone che lavorano e pagano la pensione a uno. Sapete che fra una decina d'anni ci sarà una persona che lavora che pagherà una pensione a uno. Quindi questo vuol dire che il sistema così come è studiato collasserà. Non può tecnicamente andare avanti così. Quindi la pensione a uno. Grazie a tutti